Siamo con Marco Mafrica, un giocatore del Major. Questa sera possiamo davvero dire che Ubi Major-Minor Cessat, una grande prestazione e anche uno splendido gol. Sì, il mister mi ha fatto questo assist qua e io sull'uscita del portiere ho fatto un pallonetto ed è andata bene. Che tipo di gara è stata? Gli avversari hanno tenuto il ritmo? È stata una gara combattuta all'inizio, poi dopo aver sbloccato il risultato abbiamo dilagato. Alla regia ci dicono che eri in panca all'inizio? È per questo che andava bene all'inizio, poi sono entrato io e è successo solo il gol e basta. Al di là di tutto che campionato state disputando? Siamo, mi sembra, secondi in classifica, ci stiamo divertendo ed è quello l'importante e speriamo di continuare così. Ci raccontava il mister che il segreto della vostra squadra è sicuramente il gruppo e gli allenamenti in pizzeria più che sul campo? Io eliminerei proprio sul campo e dire solo in pizzeria o al pub o in posti del genere, comunque sia il campo lo vediamo solo mercoledì e c'è chi lo vede anche poco, però vabbè poi quando si entra poi ci si diverte, l'importante è quello.